Grazie dell'invito al SISDIC che ha scelto per questo tema una persona che non ha neanche un computer, non l'ha mai avuto. No, ho l'iPad, ho l'iPhone che dicono che dentro sono molto simili a un computer, però il vero computer, quello col mouse, quello con tutte quelle cose lì, io l'ho sempre rifiutato. Non l'ho mai avuto su alcuno dei miei tanti tavoli. Detto questo mi sono applicato e ho provato a chiedermi che cosa si possa dire su questa ubicazione della giurisdizione in ordine alle liti relative ad internet e principalmente però, perché questo era il titolo, a quelle per le lesioni in rete, vale a dire immagino soprattutto per gli illeciti diffamatori. E quindi ci siamo posti anche noi uno dei più alti, nobili e quasi ieratico interrogativo della nostra materia. Dove litigare? Come litigare? Con che tipo di avvocati litigare? A che costi litigare? E in quale ambiente, sia giuridico sia anche sociologico, litigare? Da questo punto di vista di solito si annoverano tre tipi principali e tre tipi forse meno importanti di litigi e soprattutto gli internazionalprivatisti e internazionalprocessualisti statunitensi che li elencano. Il primo sono le controversie extracontrattuali per diffamazione a mezzo internet, l'online defamation. Il secondo sono le controversie extracontrattuali da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, i trademark and copyright infringement e i connessi provvedimenti di notice and take down. Il terzo è quello delle controversie contrattuali derivanti da contratti conclusi online e oggi se ne è parlato parecchio anche nei giorni passati. E poi tre campi un po' meno importanti, le controversie extracontrattuali derivanti dalla registrazione di domain names imitativi, le controversie extracontrattuali derivanti dalla divulgazione di informazioni finanziarie tali da poter orientare le scelte di investimento o disinvestimento e finalmente, questo è abbastanza importante, le controversie ex delicto diremmo tradizionalmente derivanti da fenomeni di violazione della privacy, furto di identità o di informazioni personali a mezzo internet. Le difficoltà connesse all'esatta localizzazione del foro competente in questo tipo di cross border litigation sono trasversali rispetto a tutte queste categorie e in linea generale può notarsi che l'aspirazione degli ordinamenti giuridici alla prevedibilità del giudice competente e quindi anche del giudice munito di giurisdizione internazionale da parte sia dell'attore ma anche del convenuto è fortemente messa in crisi nel campo delle liti da internet di queste sei tipologie che ho elencato di liti da internet che è caratterizzato, è banale fin dirlo, dalla a territorialità, dalla proiezione istantanea ed ubiqua degli illeciti perpetrati a mezzo internet e dalla virtuale accessibilità dei contenuti messi nella rete in ogni parte del mondo contemporaneamente. Lo sforzo compiuto a livello legislativo anche sopranazionale, giurisprudenziale e dottrinale nell'ultimo ventennio è stato quello allora di riadattare i criteri di collegamento, i links tradizionali e in particolar modo quello classico del forum commissi delitti a questa nuova realtà cercando di perseguire due obiettivi. Non dilatare le maglie della giurisdizione internazionalmente rilevante sino alla soglia esorbitante di consentire all'attore di agire comodamente a casa sua nel forum actoris con totale sovvertimento del antico broccardo actor sequitur forum rei ma al tempo stesso non rendere l'esercizio dell'azione eccessivamente difficile imponendo all'attore di agire in fori o privi di alcuna significatività per lui anche dal punto di vista della vicinanza del giudice alla prova e ai fatti o fori particolarmente gravosi e particolarmente estranei alle consuetudini di vita dell'attore. Ne emergeranno come si vedrà in questa carrellata di soluzioni soprattutto per le liti diffamatorie delle soluzioni però estremamente nuancé che dico subito anticipo subito non garantiscono affatto la prevedibilità del foro e fanno sì che la lite in ordine alla collocazione del foro quindi della sede giurisdizionale del giudice che non sarà affatto a Cupertino peraltro sia una lite nella lite di notevole durata notevole complessità e anche notevole dispendio e aggiungo che molto spesso in molti ordinamenti processuali di comolo la lite sulla giurisdizione non si svolge in parallelo con la lite di merito come invece accade nell'Europa continentale ma si svolge prima della lite di merito cioè challenge to jurisdiction viene deciso prima a seguito di un tipo di istruttoria semplificata che di solito per esempio non prevede l'examination degli expert witnesses che si limitano a test iscritti e quindi si sentono anche molto liberi di dire un po quello che vogliono e finisce con una decisione che si può provare ad impugnare in quegli ordinamenti diritto l'appello è molto compresso fino a che questa decisione non diventa definitiva non si ricomincia con la trattazione del merito quindi da questo punto di vista sono diciamo così inconvenienti non piccoli quelli di avere criteri giurisdizionali come quelli che adesso andrò a illustrare purtroppo per voi ma anche a suo tempo purtroppo per me minutamente che sono criteri che vanno ricavati da una serie di valutazioni proprio di fatto ardua da compiere e devo dire anche molto sfumate nei toni stessi in cui ci vengono proposte ma innanzitutto faccio presente che di questi temi oltre alla corte dell'unione europea come poi vedremo si è occupata anche la corte di diritto dell'uomo di strasburgo nel caso perren contro regno unito che è sorto da un processo penale inglese a carico di un cittadino francese residente nel regno unito e la corte di strasburgo ha dichiarato inammissibile per manifesto in fondatezza il ricorso promosso da questo cittadino francese che era stato processato e condannato penalmente in inghilterra per aver pubblicato materiale osceno su un sito web in violazione del obscene publication act del 1959 inglese inglesi sull'oscenità sono sempre molto attenti diciamo così dai tempi di oscar wilde forse anche prima il ricorrente lamentava una violazione di un suo diritto fondamentale di libertà di espressione e sottolineava fra l'altro la esorbitanza della giurisdizione penale inglese argomentando soprattutto che il sito internet su cui lui aveva caricato queste benedette immagini che non ho idea di che tipo di immagini forse lo beninteso era gestito da una società avente sede negli stati uniti di cui lui era anche azionista sicché a suo avviso il luogo di commissione del fatto non avrebbe potuto collocarsi nell'ambito della giurisdizione inglese molto più severa evidentemente di quella statunitense e la corte edu invece ha ritenuto che l'esercizio della giurisdizione penale da parte del regno unito e quindi poi anche la condanna a fronte del materiale compimento del tassello iniziale della complessiva condotta criminosa ossia il caricamento delle immagini su un sito statunitense ma compiuto in inghilterra fosse assolutamente conforme ai principi della cedum questa nota diciamo così che conta molto poco dove sia il server riemergerà un po in tutta questa giurisprudenza che verrò tediosamente esaminando e passiamo dunque alla diffamazione a mezzo internet e alla giurisdizione al riguardo poi nel testo scritto troverete anche delle osservazioni sulla competenza interna perché uno dei problemi è che una volta che si è chiarito se c'è giurisdizione poi per sapere a quale giudice italiano andare per poter esercitare con debita competenza l'azione quasi non si pensa invece diventa anche quello un problema molto impegnativo allora con riguardo la diffamazione a mezzo internet compiuti da convenuti domiciliati nel territorio di uno stato membro varranno evidentemente i principi del regolamento UE del 1215 del 2012 il cosiddetto Bruxelles 1 e gli stessi criteri di collegamento varranno anche quando la controversia decisa dal giudice italiano veda coinvolto un convenuto con domicilio extra UE giusto il rinvio compiuto dall'articolo 3 comma secondo della legge 218 del 95 ai criteri di giurisdizione uniforme valevoli in campo europeo nella giurisprudenza quindi della corte UE che interessa sia quindi per i convenuti domiciliati nei paesi UE sia anche vista l'invio della 218 per tutte le altre liti l'allocazione delle controversie risarcitorie per i danni da illecito alla diffamazione si è compiuta soprattutto in due casi nel caso i date advertising e nel caso Olivier Martinez che sono due casi il primo del 2009 quindi relativamente recente il secondo del 2010 decisi con un'unica sentenza nell'ottobre del 2011 poi vi è un caso più recente ancora impronunciabile BOLAG Supplies Ningen OU e Ilsean versus Svenx Handel che di solito però viene pronunciato dagli addetti ai lavori come BOLAG Supply in entrambi questi casi in entrambi queste sentenze i casi sono tre sentenze sono due la corte UE è stata richiesta di fornire un'interpretazione autonoma della nozione di luogo dell'evento dannoso assunta come sappiamo a criterio di collegamento giurisdizionale dall'articolo 5.3 del regolamento 44 a suo tempo e dall'articolo 7 numero 2 del regolamento 1215 che facoltizza il danneggiato ad agire nel foro speciale dell'illecito Aquiliano in alternativa al foro generale del luogo di domicilio della sede del convenuto le soluzioni adottate dalla corte su questo foro facoltativo divergono però sensibilmente a seconda che l'attore danneggiato sia una persona fisica una persona giuridica nel primo caso la persona fisica potrà agire per ottenere il raccimento dell'intero danno in due luoghi nello stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti in tale luogo che tendenzialmente coinciderà con il forum rei si verificherà la condotta illecita oppure può anche agire dinanzi ai giudici dello stato membro in cui si trova il centro di interessi del danneggiato e questa è la nozione più interessante che emerge da questa giurisprudenza cioè l'identificazione del forum damni un po generico in concreto con il luogo dove si trova il centro di interessi del danneggiato del danneggiato persona fisica per le persone giuridiche vedremo il discorso poi diverso e innanzitutto si dubiterà se valga per tutte oppure solo per la società ma veniamo alle persone fisiche che nel caso della diffamazione sono probabilmente gli attori più importanti più ricorrenti più frequenti e la corte specifica quel luogo in cui una persona fisica al proprio centro di interessi corrisponde ma solo in via generale alla sua residenza abituale perché poi aggiunge che potrebbe situarsi anche altrove allorché altri indizi quali e qui vedete perché dicevo che è nuancé sfumato il tipo di analisi che deve essere compiuto e quindi postulerà lunghi accertamenti ed esiti contraddittori potrebbe essere diverso dunque il centro di interessi dalla residenza abituale allorché altri indizi quali l'esercizio di un'attività professionale possono dimostrare l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con un altro stato diverso da quello della residenza se vi aprono così le porte a quel concetto effettivamente meno univoco che è quello di domicile e potrà assumere rilevanza quale foro idoneo ad ospitare un'azione esercitoria per la totalità del danno il luogo diverso dallo stato di residenza in cui la persona fisica professionista uomo politico uomo d'affari goda di reputazione in ragione del fatto che ivi svolge un'attività particolare o ivi riveste qualifiche particolari vi è dunque una certa coerenza con la notoria famosa giurisprudenza Sheville sentenza della corte UE del 1995 che in tema di diffamazione a quell'epoca a mezzo stampa affermò una sorta di giurisdizione raggera vale a dire ancora oggi si fa salvo il concetto per cui il danneggiato può agire in ciascuno stato membro in cui la notizia diffamatoria sia risultata accessibile al fine di ottenere la condanna del responsabile però allora qui solo alla porzione di danno arrecato nello stato del foro quindi viene salvata anche Sheville c'è questa possibilità della giurisdizione a raggera con tante azioni per nei vari stati in cui l'informazione è accessibile ma soltanto per quella parte di danno arrecato nello stato del foro ora capite che localizzare il danno nei vari stati è un'operazione diciamo così abbastanza abbastanza sterile perché non è che il danno sia un danno alle cose in questo caso è un danno alla reputazione quindi non ha una inerenza geografica così specifica come vorrebbe la giurisprudenza Sheville che queste sentenze quindi i data e quell'altro dal nome impronunciabile supply libolus supply hanno comunque cercato di par salvo questa possibilità oltre però a questa invece del luogo diciamo così di domisai che può essere diverso da residenza abituale e quello del collegamento più stretto in particolare con la reputazione della persona e già nella sentenza Sheville la corte UE aveva infatti puntualizzato che il giudice di ciascuno stato contraenti in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e quindi nel caso di internet qualcunque stato al mondo e in cui la vittima asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione è dal punto di vista territoriale il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo stato e determinare la portata del danno che ne deriva però questo forse valeva per la diffamazione a mezzo stampa che va in n paesi ma non in tutti i paesi vale molto meno anche se la corte ha cercato di salvare questa giurisprudenza Sheville di conciliarla con quella del domisail per il caso di violazioni a mezzo internet veniamo alle persone giuridiche no possiamo forse ancora chiarire che nel caso appunto che ci sia una persona giuridica il centro di interessi non può identificarsi sì che si implicita con il luogo in cui tale soggetto ha la propria sede statutaria così come la residenza non necessariamente è il luogo a cui occorre guardare per le persone fisiche per le persone giuridiche non è necessariamente il luogo della sede statutaria è invece il luogo in cui la reputazione commerciale della persona giuridica è più solida allora vi vedete a fare l'accertamento del luogo in cui la reputazione commerciale di una importante persona giuridica è più solida certo se è la Volkswagen va beh sarà probabilmente in Germania ma per tantissimi altri produttori di beni ma soprattutto di servizi trovare il luogo per eccellenza di maggior solidità della sua reputazione commerciale è veramente un busillis e questo invece è quello che vuole queste queste pronunce in particolare la BOLAG supply e quindi quando la vittima sia una società commerciale o comunque svolgente attività di impresa a fini di lucro questi luoghi di forte reputazione commerciale possono essere più d'uno e veramente essere una questione millesimale capire qual è quello preponderante rimane poi il dubbio a cui accennavo prima se tutto questo valga anche per le fondazioni per le associazioni non lucrative per gli hollus per i trust dove questa nozione di luogo della maggior solidità della reputazione commerciale faticherebbe moltissimo ad affermarsi comunque in generale la reputazione commerciale della società andrà localizzata nel luogo in cui essa esercita probabilmente la parte essenziale della sua attività economica quindi per un produttore di beni probabilmente tenderà a prevalere il luogo in cui vengono prodotti questi beni o il luogo in cui viene prodotta la maggior parte dei beni come nel caso che ho detto della Volkswagen poniamo ma per tanti altri casi sarà difficile trovare questo luogo potrà dunque accadere che una persona giuridica da quale eserciti o diriga la maggior parte delle sue attività economiche in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria proprio in tale altro stato membro abbia subire la più grave lesione della sua reputazione commerciale in quanto di regole nel mercato in cui l'imprenditore opera e si crea il suo goodwill che la notizia diffamatoria sprigionerà in concreto la sua maggior carica lesiva nell'applicare questo test della corte UE si dovrà certo tener conto anche della lingua in cui sono redatti i contenuti asseritamente diffamatori quando la notizia diffamatoria sia stata pubblicata su un sito professionale gestito nello stato membro in cui la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle proprie attività ed in una lingua essenzialmente destinata ad essere compresa da persone residenti in tale stato membro come era nel caso di specie è in quello stato membro non già in quello della sede statutaria che la persona giuridica potrà e dovrà agire contro l'autore dell'illecito per vedersi esercita la totalità del danno a meno che non voglia avventurarsi con scevi nella giuridizione raggera vale a dire andare in tutti i vari stati per vedere di avere esercimento dei danni patiti all'interno dei confini di quello stato con questa operazione diciamo così di tipo sofistico quando non sia possibile individuare il centro di interesse della persona giuridica secondo il test dell'attività economica prevalente in termini di incidenza sul fatturato a livello globale la persona giuridica danneggiata non potrà invece beneficiare della facoltà di agire davanti ai giudici del centro principale dei propri interessi per ottenere il risarcimento integrale del danno ma gli rimarrà soltanto la via o della giuridizione raggera che penso non percorrerà praticamente mai oppure quella di andare dal consueto forum rei di rivolgersi al consueto forum rei che forse la persona giuridica potrà anche essere in grado di abbordare in pratica con questa giurisprudenza mi sembra che si è voluto ridurre il margine del forum shopping per le società che pur stabilite in un unico stato membro distribuiscono equamente la loro attività nel territorio di più stati membri favorite saranno così anche le grosse multinazionali che tipicamente operano mediante società figlie ciascuna dotate una propria autonomia giuridica stabilita in ciascun stato membro e che li hanno la loro reputazione più solida e quindi l'organizzazione diciamo così delle società che possono incorrere in questo tipo di lesioni che possono subire questo tipo di lesioni dovrebbe cercare di favorire la strutturazione con società satelliti non solo come sede ma proprio come luogo in cui possono dire di avere la loro reputazione più solidamente secondo quello che il titolo della mia non posso dirla questa volta chiacchierata diciamo tremenda illustrazione postula devo anche accennare a un tema che non è processualistico ma che è internazionale privatistico quello della legge applicabile alle cause esercitorie per danno alla diffamazione e vi è da constatare la inesistenza di norme di conflitto uniformi a livello europeo ancora oggi anche se forse domani ci saranno perché c'è qualcosa che si muove la legge sostanziale applicabile disciplina in particolare anche la prescrizione salvo nei paesi di commolo dove come sappiamo la prescrizione viene vista come una questione processuale invece e soprattutto la quantificazione del danno e le tipologie di danno il regolamento di roma 2 del 2007 sulla legge applicabile obbligazioni extracontrattuali certamente molti di voi lo ricorderanno esclude puntualmente esplicitamente dal suo campo di applicazione le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità compresa la diffamazione articolo 1 comma secondo lettera g e quindi non vi è una norma uniforme allo stato però sono in corso naturalmente elaborazioni per l'adozione di norme di conflitto uniforme anche questa materia e già l'articolo 30 comma secondo del regolamento 864 del 2007 appunto roma 2 demandava la commissione europea entro il 31 dicembre 2008 un approfondimento sulle varie legislazioni vigenti nei vari stati membri ne è nato un corposo report che nel testo scritto troverete dove trovare ma insomma lo troverete certo con facilità comunque e la commissione ha constatato in questo report che nell'area dell'unione sono pochi gli stati membri alcuni stati dell'est europa principalmente ungharia lituania bulgaria romania che prevedono con norme ad hoc che alle obbligazioni da diffamazione a mezzo internet tv e stampa si applica la legge dello stato di residenza abituale del danneggiato la legge di diritto internazionale privato rumena in particolare lo emerge dalla lettura di questo report subordina l'applicazione della legge dello stato del danneggiato al fatto che per il danneggiante fosse prevedibile che la sua condotta avrebbe cagionato un danno in quello stato e questo poi il tema che riemerge nella proposta che vedremo tra un attimo negli altri stati membri dicono le disposizioni di diritto internazionale privato sulla legge applicabile alle obbligazioni da fatto illegito quindi per l'italia sarà l'articolo 24 della legge 218 del 95 che prevede che comma primo l'esistenza del contenuto di diritto della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto e le conseguenze della violazione dei diritti di cui è comma primo sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti comma secondo questo e quindi con questo comma secondo si dovrà andare a vedere il luogo dove si è verificato l'evento o a scelta danneggiato la legge dello stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno a norma dell'articolo 62 della legge 218 questa è l'italia oggi nei paesi di commollò in particolare nel regno unito per quei che ancora ci interessa ma ci interesserà in realtà sempre il regno unito ci mancherebbe e in quelli che hanno subito la sua influenza quindi fra i nostri paesi in particolare cipro e malta vige invece anche se ci sono tante critiche anche lì una regola che è chiamata quella della double actionability rule se la condotta illecita è stata commessa nel regno unito il giudice inglese applicherà la legge inglese anche se la vittima è residente all'estero se la condotta illecita è stato commesso all'estero il giudice inglese applicherà la lex fori cioè il diritto inglese solo se la legge inglese e la legge straniera qualificano entrambe entrambe double actionability come illecita la condotta del convenuto se il test non è superato il giudice inglese gode di un'ampia discrezionalità nell'individuazione della legge che presenta il closer link to the case and the parties cioè adotterà in sostanza qualcosa di simile per la legge applicabile a tutta quella elaborazione che è stata compiuta in materia di forum non convenience all'estero di tutta questa panoramica comparatistica la commissione che però si è mossa come vedete con molta lentezza senza rispettare il termine scaduto già da dieci anni che l'era stato dato ha proposto di adottare come criterio uniforme quello del grande scoperta grande originalità locus damni che per solito coinciderà con il foro della vittima in tal modo il parallelismo fra forum e ius forum l'abbiamo visto con quella nozione prima del domicile e con tutte le altre nozioni che la giurisprudenza aveva elaborato della corte di giustizia e ius in questo caso quindi il foro della vittima sarebbe assicurata questa corrispondenza che è molto utile lato pratico fra forum e ius e quindi in una raccomandazione del 2 maggio 2012 al parlamento europeo per la modifica del regolamento 864 del 2007 si era formulata una proposta all'articolo 5a che ha quattro commi ve ne leggo solo due per velocità e anche perché sono i più importanti anche se molti probabilmente li conoscono già ma li leggiamo per vedere qual è l'output finale di tutta questa elaborazione compiuta sull'arco di più di dieci anni dalla commissione lo leggo direttamente in inglese se ma no traduco al volo in italiano allora la legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali che nascono dalla violazione della privacy o di diritti relativi alla personalità inclusa la diffamazione sarà la legge del del paese nel quale sia il più significativo elemento o i più significativi elementi del della perdita o veloce o del danno o che possano essere quelli che in futuro più verosimilmente saranno i paesi in cui si svilupperà la perdita o il danno tuttavia ecco l'eco di alcune legislazioni nazionali la legge applicabile sarà la legge del paese nel quale il convenuto è abitualmente residente se egli oppure ella non potevano ragionevolmente prevedere conseguenze sostanziali could not reasonably have foreseen substantial consequences del suo o della sua atto compiuto nel paese designato dal paragrafo 1 dal comma primo quindi si è adottato un criterio che per fortuna da un po di tranquillità perché pone questo problema della prevedibilità questo tema della prevedibilità e quindi in molti casi in molti dei casi a cui siamo soliti pensare in materia appunto di diffamazione dovrebbe non far scattare la legge del del luogo di come abbiamo visto in cui ho accorso il danno perché diversamente se per puro caso nello scrivere nel computer cosa che ribadisco io non faccio perché la tastiera dell'ipad è molto sgradevole quindi non scrivo praticamente mai nel computer scrivo ancora sempre a penna e poi faccio battere la macchina dalla segretaria come fai anche tu o meno come fa Piero Schlesinger sicuramente certo e vabbè io purtroppo sono più vicino a lui per età e bene se nello scrivere invece nella tastiera del vostro computer vi sognate di mettere dentro qualche espressione estremamente rude nei confronti di qualcuno che vive per esempio appunto in Inghilterra dico Inghilterra perché il paese lo conosco di più e che anche per molti versi apprezzo ma di cui non apprezzo affatto alcuni aspetti del sistema processuale civile per la parte convenuta se non ricordo in uno dei precedenti convegni ormai parecchi anni fa di queste cose abbiamo ampiamente parlato ve ne traccia negli atti perché io verrei citato se non ci fosse questa valvola della prevedibilità in Inghilterra dove entro 21 giorni dalla data di notifica in cui ricevo la notifica dell'atto introduttivo che non è una citazione italiana ma è semplicemente uno statement of claim estremamente breve entro 21 giorni io devo trovare un avvocato inglese incaricarlo dagli congrui anticipi che sono comunque soltanto una minima parte di quello che dovrò dare poi alla fine e fargli fare il cosiddetto acknowledgement of service se per caso io entro questi giorni non lo faccio vengo dichiarato in default e quindi viene accolta per intero la pretesa come libellata dall'attore il quale attore appunto può pensare che queste mie frasi buttate dentro con facilità in qualche sito blog o cose di questo tipo siano state per lui tremendamente diffamatorie e purtroppo io non ho pensato che certe frasi potevano effettivamente addirsi anche qualche d'uno che viveva in inghilterra e non soltanto nella rilassata italia e quindi essere citato lì e in men che non si dica pelato vivo in sostanza siccome immagino di avere ancora qualcosa come 10 12 minuti no volevo parlarvi della violazione della privacy dell'abusivo trattamento dei dati personali non ve ne parlo state tranquilli tanto questo è scritto è scritto prima o poi verrà pubblicato però volevo accennarvi allora però in qualche minuto per concludere allora visto che mi sembra di capire che siete giustamente tutti molto annoiati ma il tema era il tema della localizzazione della giurisdizione e la giurisprudenza è questa però in campo di violazione della privacy di abusivo trattamento dei dati personali ci sono delle cose interessanti e che ieri sono state accennate anche dal professor di ciommo con riguardo alle azioni di classe ora le azioni di classe sono un mio vecchio amore nel 92 da trento dove in quell'epoca ero anche preside giovane preside di una giovane facoltà andai nel nuova inghilterra e fui affascinato dallo studio sul campo delle azioni di classe quindi da tradizionalista qual ero prima di questo viaggio divenne un discreto progressista giuridico il che al ritorno a trento fu molto apprezzato da tutti quei progressisti che vi allignavano e che mi vedevano in precedenza come un elemento di particolare ostruzionismo ebbene scrissi uno scritto sul fatto che molto presto nella rivista lì di questa università di filadelfia che molto presto le azioni di classe sarebbero dovute arrivare in europa why not class action in europe una cosa così dopo un paio d'anni vedo apparire uno scritto del professor pietro rescigno sulla giustizia italiana è uno scritto di galgano credo già sul contratto impresa volte a dimostrare che non c'era nessuna possibilità di compatibilità con l'ordine costituzionale italiano di qualcosa di anche solo vagamente simile alle azioni di classe allora non ero moltissimo in confidenza con questi eminenti giuristi che poi sono diventati devo dire sempre rimanendo eminenti anche carissimi amici e poi mi hanno detto che in realtà le multinazionali del tabacco erano impauritissime e quindi avevano stimolato un bloccage avanzato diciamo così perché guardavano financo gli articoli usciti in una rivista quella di filadelfia che non credevo essere molto diffusa per la verità non puntualmente c'è voluto più tempo del previsto però è arrivata l'azione di classe in italia è arrivata anche in altri stati europei purtroppo la commissione europea non le vuole minimamente omologare è molto fredda le detesta in realtà il mondo tedesco un po le detesta in realtà salve materia finanziaria dove hanno un'azione tutta particolare in italia dopo una prima versione che era veramente improponibile e che non è stata mai applicata non è mai entrata in vigore ce ne fu una versione una seconda versione che è stata sperimentata in questi anni che si è visto per la verità che non ha una grande capacità di creare davvero un fenomeno socialmente ed economicamente importante adesso c'è quella che il professor di sabato ha avuto la bontà di citare poc'anzi come azione di classe di terza generazione per la verità entra in vigore fra un anno beh in questo campo come diceva anche diciamo ieri ebbè certamente un'azione di classe è assolutamente necessaria ed è necessaria che sia strutturata in modo efficiente per essere strutturata in modo efficiente trattandosi qui veramente di micro lesioni quelle da profilazione magari neanche tanto micro ma sostanzialmente di lesioni che non hanno un petitum che in partenza sia chiaro e non ciabile facilmente probabile ci vorrebbe però un'azione di classe di quarta generazione perché anche quella di terza generazione che quindi entrerà in vigore forse fra un anno ha ancora la caratteristica che tutti sappiamo di avere l'opt in mentre per questo tipo di pretese di pretese effettivamente tutte sostanzialmente uguali salvo per i moduli cioè l'ampiezza voglio dire che può essere diversa a seconda del periodo in cui sono stato studiato e profilato ma basilarmente uguali non si può pensare ancora alla raccolta delle adesioni e tanto meno si può pensare al fatto che le adesioni arrivino alla cancelleria dei tribunali specializzati addirittura non tramite il classe rappresentative ma direttamente ad opera degli aderenti che è invece una cosa che caratterizza profondamente le soluzioni italiane le quali amano moltissimo l'idea che vi sia un diritto di azione quello che tutti amiamo per la verità un diritto di azione individuale che uno può far valere sì aderendo alla classe e quindi sostanzialmente esercizio dell'azione io l'ho chiamata negli studi per con le santi senza domanda giudiziale ma se no anche esercizio dell'azione proprio con propria sostanziale domanda giudiziale sia pure data soltanto dall'atto di adesione ma veicolato fuori del portatore dell'interesse della classe che è il classe rappresentative ebbene quindi anche questa terza versione questo volevo dirvi se ci sono quelli delle b corporation stiano dunque assolutamente tranquilli pur avendo fatto molti passi avanti perché bisogna pur dire che recepisce molte idee che mi sembrano appunto buone e che molte delle quali devo dire la verità erano anche le mie idee per la verità e sì va beh ci ho scritto per vent'anni tra trent'anni su queste cose qualcuno magari buona fede l'avrà anche letta insomma anzi credo di sì e di solito i processualisti invece hanno fatto di tutto per togliere gli aculei all'azione di classe e io me ne ero invaghito nel 92 quindi continuo a esserne invaghito perché credo che quello che veramente occorre ottenere a differenza di ciò che si pensa non è il risarcimento del danno non è il redress non è neanche il relief è la deterrence e in questo campo di cui abbiamo parlato così estesamente per due giorni credo che l'unica cosa che ci possa dare qualche speranza non è certo l'azione individuale non è forse neanche l'autotutela perché l'autotutela in questo settore non è facile non è tanto facile l'autotutela quello che ci può dare un po' di speranza è la deterrence certo che la deterrence può anche essere perseguita attraverso l'operato delle agenzie indipendenti e quindi dei regolatori però questo operato ha nei paesi che lo privilegiano l'Italia è uno di quelli che lo privilegia assolutamente di più e che meno crede alla soluzione diciamo così dell'azione giudiziale ha delle discontinuità nel tempo e l'abbiamo vista voglio dire abbiamo visto dei momenti drammatici i momenti in cui il presidente della Consob era seduto al tavolo da gioco di Monte Carlo questo era all'inizio degli anni 90 dei momenti non so come si chiamasse ma era un grandissimo giocatore era sempre seduto lì dei momenti in cui altre autorità hanno mostrato dei momenti di grande cedevolezza in sostanza sì pazzi esatto ma è la congiura dei pazzi infatti naturalmente contro i bacchieri medici ecco appunto mentre i pazzi hanno provato a far sì che la banca dei medici crollasse questo qui giustamente ha pensato bene di stare a Monte Carlo e di crollare lui anche insomma le autorità hanno un problema diciamo così che a seconda dei momenti politici o dei momenti sociologici possono essere di notevole efficienza o anche estremamente estremamente come si può dire riluttanti l'azione di classe è il termino non è mai riluttante perché è mossa dalla mano invisibile la mano invisibile non è tanto quella dell'avvocato che vuole guadagnare 30 milioni di euro ma ne vuole guadagnare molti di più è lì il bello dell'azione di classe è una pura impresa e come tutte le imprese si rischia l'osso del collo nel senso che bisogna investire dei soldi che di solito si vanno a prendere a prestito quindi sostanzialmente si crea un'impresa un'impresa basata sulla credibilità dello studio legale che ottiene credito tiene tanto credito per poter giustamente è stato detto ieri da diciamo non solo ben nutrire ben provare ben dimostrare la singola azione in corso ma soprattutto fare l'early detection di tutte le possibili azioni che varrebbe la pena in futuro di intraprendere e il solo fatto di sapere che c'è qualcuno che ti studia dalla mattina alla sera avendo discreti mezzi a disposizione per vedere se hai lasciato il fianco scoperto per qualche possibile attacco è una cosa che mantiene non dico nei giusti limiti ma entro certi limiti almeno entro certi limiti l'operato di chiunque comprese le più grosse big corporations perché non si può essere grossi a sufficienza a fronte del rischio che c'è sempre quando finisci nelle mani di un giudice di un giudice civile che è ancora più grosso del rischio delle mani del giudice penale per la verità perché insomma gente che è stata in prigione veramente a lungo se qualcuno ce l'è gli abbate faria in italia per fortuna se ne sono abbastanza pochi ci sono tanti tesori di monte cristo ma gli abbate faria non sanno dove sono non lo dicono comunque non ci sono gli abbate faria nelle carceri italiane è così no mentre invece il rischio di una terribile condanna è quello è possibile financo in italia e certamente potrà essere possibile anche in altri paesi anche dell'unione europea su questo però c'è un fatto che la commissione europea almeno quella uscente non ha mostrato essa i suoi consulenti di credere realmente al modello dell'azione di classe perché se no non si spiegherebbe il tipo di raccomandazioni che ha fatto e il tipo sostanzialmente di povertà di input di tipo omogenizzatore che ha caratterizzato tutti questi anni non di meno la forza del modello del modello coniato dall'inventore insomma delle azioni di classe che era un tipo molto molto sveglio è stata così ampia che quasi tutti gli stati europei piano piano alla spicciolata come avevo previsto nel 92 si sono dotati di un'azione di classe poi in molti di questi stati europei funziona poco perché solo alcuni quelli nordici del nord europa hanno dotato il modello dell'opt out cioè in sostanza hanno dotato la soluzione molto pratica ma che cozza contro la mentalità di molti giuristi dell'europa continentale della adesione implicita dell'adesione che può essere semplicemente presunta salva una espressa scelta di opt out e questa è la vera frontiera ma vi dico e chiudo che in questa legge c'è una piccola come si può dire caparra confirmatoria nel senso del abbandonare l'opt in entrare nell'opt out ed è questa che nella transazione dal punto di vista dell'efficacia vincolante della transazione parentesi le azioni classe hanno senso ove transatte devono minacciare minacciare il tuono deve rombare però poi non deve quasi piovere in sostanza bisogna transare nella transazione si adotta questo sistema che soltanto quelli che si cavano fuori non sono vincolati dalla transazione quindi l'opt in è già entrato nell'ordinamento italiano dell'azione di classe non a livello di composizione della classe dove c'è ancora l'opt out è entrato dove c'è ancora l'opt in ma a livello di transazione dove si è passati al sistema dell'opt out che a mio avviso era quello che scrivevo nel 1992 non è affatto incostituzionale perché in realtà lo ieratico diritto di azione è qualcosa di fortemente don chisciottesco mentre un machinery che come questa sostanzialmente dia al diritto di azione non più la forma della domanda giudiziale ma invece diciamo così la forma di una share di partecipazione non è un'entità aggregata che si forma nelle per il processo e beh da veramente una possibilità spesso di relief e comunque quasi sempre di deterrence ed è di deterrence che abbiamo assolutamente bisogno cioè di paura non solo la paura nostra che è molta ma anche la paura degli altri la paura dei possibili infringer che attualmente sembra essere scarsetta però la paura vostra è che io continui e io invece smetto grazie 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 a tutti.